Vorrei aggiungere una cosa per quanto riguarda gli artisti, tutti gli artisti che saliranno sul palco non sono stati scelti per gusto personale ma sono artisti che sin dal primo giorno in qualche modo hanno appoggiato la causa delle sardine che si sono fatti vivi con noi, con dei messaggi, con delle chiamate e sostenendoci anche da lontano quindi abbiamo deciso di dare voce proprio agli artisti che dal primo giorno in qualche modo sono stati sardine con noi